Un lupo con una storia dietro le spalle, così lo definiva Giuseppe Salvatore Rina, figlio del boss di Corleone. Sono stati i propri soldi di Paolo Francesco Maniscalco a indicare agli inquirenti la strada del link romano di questo ramo di cosa nostra palermitana. Nel 2018, dopo la condanna definitiva di Maniscalco per mafia, 15 milioni di euro passano dal sequestro alla confisca. Tra i beni anche le quote azionarie di Sicilia e Duci, bar, pasticceria, con sede prima nel quartiere Testaccio, poi a Trastevere. A gestirlo la famiglia di Benedetto Rubino, legato a doppio filo con Cosa Nostra Siciliana, lui, la figlia, il nipote e sua moglie. Rubino e Maniscalco sono legati sin dagli anni 70, quando le loro famiglie risiedevano nello stesso stabile di Via de Santis a Palermo. Il sequestro del locale era scattato già nel 2016, ma prima che i carabinieri dessero esecuzione all'ordinanza, i Rubino lo avevano svuotato, dichiarando bancarotte, trasferendo tutti i beni ad altre società. L'attività non si è fermata e poco dopo apriva il locale Danina. Con l'operazione Gerione i carabinieri del Rosso hanno arrestato 11 persone per trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, reati che, secondo la DDA di Roma, sono stati commessi per agevolare Cosa Nostra.